Scopri come affrontare le sfide del procurement moderno grazie a SAP Arriba. La competizione e l'innovazione procedono a passo sempre più rapido e ciò ha reso la capacità di usare al meglio le proprie relazioni di business essenziale per ogni azienda. Possiedi una visione chiara di come è distribuita la tua spesa? Sai come trovare le giuste connessioni con potenziali fornitori? Sai come implementare facilmente processi collaborativi di negoziazione e di gara? Sai come assicurare la conformità delle policies aziendali lungo tutto il processo di procurement strategico? Per contribuire ai profitti della tua azienda, per ridurne i rischi ed incrementarne i risparmi? Servono processi integrati che ti permettano di controllare la spesa e collaborare facilmente con i fornitori. Secondo i benchmark SAP Arriba, quelle aziende che eseguono analisi regolari della spesa per identificare nuove aree di risparmio aumentano del 17% la percentuale di spesa sotto gestione. E quelle compagnie che integrano la gestione automatizzata dei contratti, allacciandola alla gestione del procurement operativo, sono in grado di catturare fino all'11% di risparmi in più. E la percentuale della spesa gestita strategicamente sale del 14%. Sulla spesa indiretta, i risparmi possono salire del 14% invitando molteplici fornitori a partecipare ad eventi di gara tramite strumenti di e-sourcing. Le soluzioni Arriba offrono tutti gli strumenti per lavorare in maniera sempre più intelligente con i tuoi fornitori. Grazie ad Arriba potrai ottenere una visione completa ed accurata della tua spesa. Identificare nuovi partner commerciali e gestire il tuo parco fornitori. Creare e gestire facilmente eventi di gara. Automatizzare e velocizzare la gestione dei contratti. Identifica opportunità di risparmio grazie ad Arriba Spend Visibility. Arriba Spend Visibility ti permette di raccogliere dati sulla spesa da ogni tuo sistema informativo. Di classificarli secondo le tue categorie merceologiche custom e gli standard internazionali. Potrai inoltre arricchire questi dati grazie alla intelligence sui mercati di D&B. Avrai così una visione completa e chiara di tutti i processi di acquisto aziendali e strumenti di analisi intuitivi per prevenire rischi ed identificare opportunità di risparmio. Crea e gestisci le giuste connessioni con Arriba Supplier Discovery e Information and Performance Management. Il servizio gratuito di Arriba Discovery ti permette di trovare un match tra le tue necessità di acquisto e l'offerta di un network di oltre 1,7 milioni di aziende. Arriba offre inoltre tutti gli strumenti per assicurare la compliance dei processi di iscrizione all'albo fornitori e i processi di qualifica, grazie anche a questionari personalizzati, sistemi di alert sulle certificazioni dei fornitori e spazi progetto per l'analisi della performance. Questo è un esempio di profilo fornitore così come appare nell'interfaccia grafica aggiornata Fiori. Qui troverai tutte le informazioni che ti servono per valutare le prestazioni ed il rischio di ogni tuo fornitore. Crea processi di e-sourcing efficienti grazie ad Arriba Sourcing. Grazie agli strumenti, il leader di mercato di Arriba Sourcing sarà in grado di creare ambienti di progettazione ed esecuzione di gara in maniera intuitiva ed automatizzata. Potrai creare progetti di sourcing completi di tutti i documenti necessari e con i giusti compiti e ruoli assegnati ai giusti stakeholders. E in pochi semplici step potrai creare eventi e gare, invitando i fornitori ed impostando le regole, il funzionamento e il contenuto della gara in totale semplicità. Automatizza ed accederai al life cycle dei tuoi contratti con Arriba Contracts. Liberati per sempre di carta e di inchiostro. Grazie all'archivio automatizzato di Arriba riceverai alerts ed avvisi allo scadere dei contratti. E con i workspace di contratto potrai far collaborare facilmente tutti gli stakeholder interni e negoziare in maniera intuitiva con i tuoi fornitori. Così potrai aumentare la produttività della gestione dei contratti, mantenendo la compliance alle policies aziendali. Arriba è l'unica suite integrata che risponde alle esigenze di tutto il processo di procurement strategico. Contattaci per saperne di più.